Cosa vuoi ricevere un codice skin? Se anche tu vuoi ricevere 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu un codice skin Beh si raga dovete andare a vedere ora proprio in questo momento Perché vi vado a fare un regalo qui sotto nei commenti raga c'è un codice skin Per tutti i giocatori e soltanto uno di voi però potrà andarlo a riscattare Ma raga non è finita qui perché se non sei riuscire a riscattare il cod vai a lasciare un bellissimo like Perché a 50 like andrò a rilasciare un altro codice Inoltre andrò a fare un regalo ad uno di voi che mi lascerà il suo ID qui sotto nei commenti Inoltre se volete ricevere ora di VBAC gratis Per ragazzi andate sull'Epic Lounger oppure dal telefono su Epic Lounger cercate su internet Andate a scrivere qui sopra mongas andate su addon raga vi troverete questi pacchetti Potete scegliere uno di questi anche questo qua e ogni pacchetto che prenderete riceverete fino a 500-600 VBAC Invece di prendere questo pacchetto qui Però ragazzi dovete verificare che avete il backpack diamo un gas Perché se no se prendete il pacchetto per la prima volta i VBAC non ve li darà Ma per la seconda volta vi darà un bot di VBAC Perché se no se prendete il pacchetto per la prima volta i VBAC